Musica Benvenuti a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Il Consiglio Permanente di ConfCommercio si riunirà a Roma il 13 e il 14 febbraio per incontrare i segretari dei partiti in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. L'obiettivo è rafforzare il dialogo con la politica per avere un confronto aperto sui programmi. Il Presidente Nazionale Carlo Sangalli, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha anticipato i temi che verranno indicati come prioritari ad iniziare dall'eliminazione delle clausole di salvaguardia per il 2019 al fine di evitare l'aumento dell'IVA. La riduzione del carico fiscale, che ricordiamo è tra i più alti d'Europa, ridurre poi la burocrazia che nebolisce il sistema delle imprese e incide negativamente sul rapporto di fiducia nei confronti della pubblica amministrazione. Non da ultimo, sicurezza delle nostre città e lotta al degrado. La corsa contro il tempo per consentire alla Vicenza Calcio di concludere il travagliato campionato 2017-18 è ad un importante giro di boa fissato il 16 febbraio 2018, giorno in cui la società dovrà onorare una serie di scadenze di pagamento. Per questo nei giorni scorsi il sindaco Achille Variati e il curatore fallimentare della società Nerio De Bortoli ha chiamato a raccolta anche le categorie economiche per lanciare un appello al mondo delle imprenditorie e delle professioni al fine di sostenere il cammino della squadra, non solo nel brevissimo periodo ma almeno sino a giugno. Una prima proposta riguarda la personalizzazione dei 2350 seggiolini della tribuna dello Stadio Menti a gruppi di tre per un costo di 3.000 euro più IVA. I seggiolini potranno essere rivestiti sino al termine del campionato con il nome dell'azienda, della famiglia o del familiare tifoso che si vuole ricordare. Per chi fosse interessato a questa opportunità l'invito è quello di contattare gli uffici della Conf Commercio di Vicenza oppure la stessa Vicenza Calcio per visionare il contratto di sponsorizzazione proposto. Crescere all'estero, un supporto alle imprese per competere nei mercati internazionali. Questo è il titolo del workshop gratuito che si terrà giovedì 15 febbraio dalle 14.30 al Centro Formazione ESEC di Creazzo. Si tratta del primo degli appuntamenti del progetto Export Facile per le piccole imprese di Conf Commercio ed ESEC Formazione, il cui obiettivo è dare un aiuto concreto alle aziende che lavorano o che approcciano per la prima volta i mercati esteri. Il seminario è organizzato insieme ad AICE, l'Associazione per il Commercio Estero Internazionale. Per ogni altra informazione per iscriversi al seminario, l'invito è di consultare la pagina dedicata all'evento sul sito di ESEC Formazione. Il welfare entra nel contratto integrativo del terziario della provincia di Vicenza. Il nuovo accordo prevede infatti la possibilità per l'impresa di elargire benefit aziendali tramite piani di welfare, ottimizzando l'erogazione sia dal punto di vista fiscale che contributivo, con vantaggi sia per il lavoratore che per l'impresa. Per spiegare le novità presenti nel nuovo contratto integrativo del terziario, Conf Commercio Vicenza ha programmato una serie di incontri sul territorio. Si inizia all'Onigo nella sede di Via della Vittoria 25, lunedì 19 febbraio alle 14.30. Martedì 20 febbraio l'incontro è previsto nella sede di Marossica, venerdì 23 febbraio ad Arzignano ed infine mercoledì 28 febbraio l'incontro sul nuovo contratto integrativo del welfare aziendale si trarà nella sede provinciale di Vicenza alle ore 15. Tra Gambellara e Montebello, zona famosa per l'uva garganega e per il capretto bianco, nasce il gruppo dei ristoratori delle terre vulcaniche promosso dai ristoratori di Conf Commercio per valorizzare una delle zone più suggestive dal punto di vista naturalistico, storico ed enogastronomico. I ristoratori delle terre vulcaniche emette in rete cinque locali di primo piano che si fanno ambasciatori di un territorio dove le tracce dell'antica attività vulcanica ancora si possono vedere nelle splendide colline basaltiche dei dintorni. Ne fanno parte l'hotel ristorante La Fracanzana di Montebello Vicentino, il ristorante La Marescialla di Montebello Vicentino, l'antica osteria il castello di Sorio di Gambellaria, l'albergo ristorante Giulietta e Romeo di Montorso Vicentino e il ristorante Il Borgo di Montebello. Così grazie al coordinamento dell'Associazione Provinciale Ristoratori di Conf Commercio e alla collaborazione del Consorzio Tutela Vini Doc di Gambellara, i ristoratori delle terre vulcaniche proporranno due menu degustazione. A marzo-aprile piatti a base di capretto bianco della zona, riprendendo una tradizione in voga sin dai tempi della Serenissima Repubblica e poi un secondo menu degustazione verrà proposto nel periodo settembre-ottobre, quando arriva a maturazione l'uva garganega, una delle varietà più diffuse della provincia di Verona e quella di Vicenza. Stiamo parlando del territorio di Gambellara, Montebello, Zermeghedo e Montorso. Il nostro territorio, le nostre colline, sono tutte terre di basalto, tutte terre di origine vulcanica e quindi l'idea di richiamare il nostro territorio, le nostre cave di basalto o altro, è stata proprio questa l'idea che ci ha fatto unire. In questa iniziativa vogliamo valorizzare i prodotti del nostro territorio. Nel mese di marzo-aprile presenteremo il capretto fatto nelle varie specialità, quindi ogni ristorante proporà una maniera diversa del capretto, sia nei primi piatti che nei secondi piatti, mentre a settembre-ottobre andremo a presentare tutta una serie di menu a base di uva garganega. Nel periodo pre-pasquale noi andiamo a utilizzare il capretto, lo utilizziamo in toto, in senso che con le parti meno nobili, i quinti quarti andiamo a preparare la coratella, accompagnata con della polenta calda come antipasto. Mentre magari con i ritagli prepariamo un ragù con le erbe aromatiche, dove andiamo a spadellare con delle fettuccine fatte in casa, e poi con il classico capretto lo andiamo a marinare, e dopo una giornata di marinatura nel vino gambellara, lo andiamo a cucinare al forno a bassa temperatura per 3-4 ore, e lo accompagniamo anche lì, in questo caso con gli aspargi della zona nostra, le erbe di campo e la polenta. Promuoviamo il vino DOC e DOCG del territorio, il gambellara DOC e il reciotto di gambellara DOCG, che hanno nella loro unicità soprattutto la sapidità e la mineralità data da questi terreni vulcanici. Il conto alla rovescia per l'esordio di questo nuovo gruppo ristoratori è dunque iniziato. Non resta che attendere il primo giorno di marzo per sedersi a tavola con il territorio. Maggiori informazioni sul sito della cucina vicentina www.ristoratoridivicenza.it Il 14 febbraio si festeggia San Valentino. In particolare i negozianti di Corso San Felice a Vicenza hanno pensato a delle speciali iniziative per la festa degli innamorati. Sentiamo. Noi come commercianti, oltre a contornare i negozi attigui alla Basilica con dei cuori, creeremo un evento particolare che avrà come orario dalle 14.30 alle 17.30 e avrà uno spazio all'interno del cortile. Creeremo un set fotografico, il protagonista sarà una 500 con dei cuori che contorneranno questo set cinematografico e le persone potranno immortalare il loro momento con delle foto che verranno poi scattate e stampate immediatamente oppure potranno fare un selfie e lì riportarle poi nella pagina San Felice Selfie che già dallo scorso anno abbiamo creato e su cui vogliamo dare una continuità poi a livello di immagini e di informazioni. Abbiamo delle cartoline che verranno distribuite nei negozi dove il cliente potrà scrivere il significato dell'amore. Una zona che piano piano sta rinascendo anche da un punto di vista commerciale. Sicuramente, sicuramente ci crediamo molto nella rinascita, noi stessi come negozio ci amplieremo e vogliamo portare sempre più novità, cose nuove, sempre più movimento e quindi ci crediamo fermamente che la zona si ripropollerà. Ed ora le altre proposte formative. ESAC a formazione propone dal 13 febbraio al 13 marzo 5 incontri serali sulla lettura ed analisi del bilancio base per la valutazione delle performance economico-finanziarie con strumenti di diagnosi strategica e di analisi di bilancio. Dal 26 febbraio al 10 maggio invece 150 ore di corso REC per esercenti dell'attività di somministrazione o vendita di prodotti alimentari. L'Università del Gusto propone il 19 febbraio il menù di Selvaggina con le tecniche per la pulizia, frullatura e marinatura delle carni dello chef Andrea Valentinetti, in più salse, ricette e tecniche di cottura. Infine il 21 e 28 febbraio in orario serale due incontri con il maestro panificatore Emanuele Varotto con gli impasti di base e tecniche per gli evitati da sfornare in casa. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 20.45 consiglio della delegazione comunale di Barbarano Vicentino, martedì alle 13 consulta del commercio all'ingrosso, mentre alle 14 consiglio della delegazione comunale di Arsignano. Mercoledì alle 14.30 consiglio ASD 50 e più, alle 15 consulta del settore turismo. Giovedì alle 13 consulta del commercio al dettaglio di prodotti per la casa, mentre alle 14.30 seminario Crescere all'estero, un supporto alle imprese per competere nei mercati internazionali. Venerdì manifestazione Art & Choc. E per quanto riguarda questo appuntamento con Coffcommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Una rivederci e buonissima settimana. Grazie a tutti i nostri spettatori e buonissima settimana.